No, qui c'è il bosco con le osi Vedi che figata San Giacomo o Monte Tivoli dove va più in salita San Giacomo Monte Tivoli Excalibur Quello lì in basso Poi quella lì è la casa del comune dove c'è l'area turistica e là in cima alla chiesetta Ti sembra? Sì Figo Ma dove ti porto sempre? Ma quanto sei fortunato davvero Ma dove ti porto sempre? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.